Nell'ambito degli screening che l'azienda sanitaria sta mettendo in campo per controllare l'infezione da SARS coronavirus, il nostro laboratorio ha pensato di introdurre uno screening che utilizza come campione anziché il tampone nasofaringeo un campione a minore invasività che è il tampone salivare. Il tampone salivare viene prelevato tramite un dispositivo che si chiama Salivet e che pertanto sarà destinato ai nostri bambini proprio per la minore invasività della raccolta. Questo dispositivo si compone di due provette e un tamponcino di cotone che non è tossico, viene introdotto nel cavo orale del bambino, viene mantenuto per un paio di minuti all'interno della bocca al fine di raccogliere la saliva e quindi viene poi inviato al laboratorio e che ci consente di fare lo screening antigenico. Com'era? Bene. Perfetto, grazie a te.